Noi in fondo siamo dei grandi maestri gelatai, ci invidiano in tutto il mondo il gelato italiano. Certo, perché il gelato come lo conosciamo oggi nasce in Sicilia. Già nel 1400 i siciliani vendevano la neve delle noroneviere in tutto il Mediterraneo. Quindi siamo maestri sul gelato. Però in Italia, nonostante ciò, non abbiamo una norma sul gelato artigianale. E cioè? Ce l'ha solo la provincia di Bolzano. Cioè, che cosa c'è dietro il gelato artigianale? Gli ingredienti da utilizzare nel gelato non è codificato. Questo vuol dire che se noi andiamo in una gelateria, pochissime gelaterie, delle 38.000 gelaterie italiane, sono veramente artigianali. La maggior parte utilizza come minimo un neutro, cioè il mix degli additivi, oppure una base già pronta. Ecco, perché sia un gelato assolutamente artigianale, no? Che cosa deve avere? Beh, dipende molto dagli ingredienti, perché gli ingredienti del gelato danno il corpo al gelato. Cioè, l'aspetto del gelato. Mentre invece la struttura del gelato è data dal congelamento. Il buon gelato è italiano. Tutte le gelaterie nel mondo, infatti, se possono, cercano di vantare la dicitura vero gelato italiano. Ma qual è il vero gelato artigianale? L'incessante proliferarsi di gelaterie e il vuoto normativo attuale non hanno reso trasparente lo scenario delle gelaterie artigianali, creando confusione per il consumatore. Al contempo, gli artigiani hanno difficoltà a differenziarsi nel variegato panorama dell'offerta commerciale. Ed è proprio con l'obiettivo di dare chiarezza ai consumatori ed uno strumento di valorizzazione del proprio prodotto ai veri artigiani del gelato che nasce questa proposta di legge. Il gelato artigianale di alta qualità si caratterizzerà per una miscela base prodotta con materia grassa e proteine provenienti esclusivamente dal latte fresco e con uova di gallina, in guscio o pastorizzate, senza l'aggiunta di aromi, coloranti e additivi, ma prediligendo l'uso di materie prime fresche e genuine. I semi lavorati saranno consentiti nei limiti del 10% del totale della miscela e comunque non conterranno aromi coloranti e additivi, a eccezione degli aromi naturali. Nel processo di lavorazione la manualità deve risultare prevalente rispetto all'intervento tecnologico e il gelato deve essere mantecato secondo un procedimento discontinuo con interventi anche manuali. Nel gelato artigianale di alta qualità è vietata l'insufflazione forzata di aria se non quella incorporata naturalmente mediante la mantecazione. Inoltre, sul peso finito del gelato deve essere garantito il 10% di agrumi, il 30% di frutta fresca o congelata, così come per le creme l'impiego di latte fresco deve essere minimo del 70%. L'utilizzo di prodotti alimentari finiti come biscotti anche in frammenti, torrone, frutta candita, cacao e derivati, cialde e brioche e altri prodotti a base di cereali è ovviamente concesso, ma ogni ingrediente impiegato nella preparazione o nell'accompagnamento del gelato artigianale di alta qualità dovrà contenere solo grassi di origine animale o vegetale, a esclusione dei grassi idrogenati o degli oli di palma, palmisto, cocco e colza. Per i gusti aromatizzati si preferiranno erbe, radici e bacche nella loro integrità piuttosto che gli estratti. La durata di questo prodotto di eccellenza del Made in Italy gastronomico, di elevata qualità e artigianità, non può che essere limitata a 72 ore dalla sua produzione per mantenere quelle caratteristiche che lo rendono uno dei vanti del bel paese nel mondo. Buona lettura e buon gelato artigianale di alta qualità! Grazie! 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 Grazie!